buongiorno a tutti oggi parliamo di tumore al colon lo facciamo con una professionista d'eccezione lo vedrete che anche è molto a cuore i suoi pazienti si chiama valeria tonini e professoressa all'università di bologna ed è una delle poche donne italiane con un ruolo universitario nel campo della chirurgia generale ha eseguito più di 8.000 interventi chirurgici di chirurgia maggiore e ha scritto oltre 300 pubblicazioni scientifiche stiamo parlando come dicevo prima di una delle maggiori esperte di questo tipo di tumore buongiorno professoressa valeria tonini buongiorno buongiorno a tutti bene andiamo allora la prima domanda lei è davvero in prima linea in questa forma di tumore non solo con la sua professione ma anche con frequenti incontri pubblici con articoli non solo scientifici ma anche di giornale e persino con un romanzo di cui poi parleremo perché si ostina con tutte le sue forze a voler parlare di questo tipo di tumore allora il per rispondere a questa domanda devo partire dal mestiere del chirurgo per spiegare che il noi pensiamo opinione comune che il mestiere del chirurgo sia un mestiere tecnico in realtà c'è una forte componente emotiva perché tu chirurgo ti trovi davanti devi aggiustare questa macchina umana questa però non è un mestiere soltanto tecnico è un mestiere in cui tu incontri l'uomo incontri gli altri nel momento di dolore nel momento in cui si rendono conto forse per la prima volta del loro essere mortali e poter aggiustare questa macchina umana è una grande soddisfazione come credo che lo sia per qualunque tecnico del mondo che deve aggiustare una qualunque macchina aggiustare la macchina umana credo che sia una delle gioie più grande che può essere concessa a un essere umano ed io in questo mestiere l'ho provato tante volte però devo dire che quando questa macchina diciamo non si può aggiustare è veramente un dolore infinito soprattutto quando questa questa macchina non la puoi aggiustare per motivi che potevano essere evitati quindi quando mi trovo davanti a un tumore del colon un tumore troppo avanzato del colon quello che provo è un immenso dolore ecco perché in realtà potevamo non arrivare qui e quindi e quindi tutte queste fatto anche di aver scritto anche un libro diciamo su una storia d'amore diciamo su in cui parlo anche del tumore del colore proprio per sensibilizzare le persone a capire che questo tumore è un tumore che può essere prevenuto addirittura evitato e quindi evitandomi anche il dolore di questo dolore diciamo che si prova in sala operatoria a volte che si è costretti entriamo nel dettaglio adesso più tecnico perché il tumore al colon è così preoccupante allora il tumore del colon è un tumore molto preoccupante perché un tumore incredibilmente frequente è la seconda causa di morte il secondo tumore più frequente al mondo ed è la secondo tumore più per causa per mortalità quindi è un tumore estremamente frequente e abbiamo circa al mondo abbiamo due milioni di nuovi casi all'anno con un milione di morti l'anno ed è un tumore che in italia in italia un tumore come già detto al secondo posto nella nella graduatoria di tumori e al secondo posto anche nella graduatoria di mortalità abbiamo in italia circa 50 mila nuovi casi all'anno con 25 mila morti e al momento in italia abbiamo 300 il numero esatto no 513 mila pazienti viventi in italia con operati per un tumore quindi sopravviventi quindi in cura per questo tumore la sopravvivenza è del 65 per cento a cinque anni quindi capiamo qual è la mole qual è la gravità diciamo di questo tumore e soprattutto questa che è particolarmente importante per un tumore che potrebbe essere addirittura evitato cosa che invece non avviene per altri tipi di tumore ecco come avviene l'inizio di questo tumore ecco il tumore avviene nella stagione maggioranza dei casi parte diciamo da un polipo del colon un banale polipo del colon che progressivamente che nel tempo in un tempo anche lungo un tempo si pensava entro cinque anni adesso si pensa addirittura da 7 a 10 anni pian piano diciamo degenera e quindi noi avremmo tutto il tempo di asportare diciamo questo tumore con una banale questo polipo con una banale endoscopia prima che questo polipo diventi cancro quindi noi avremmo la possibilità di addirittura di evitare questo tumore o comunque con una sempre con una con un'endoscopia noi avremmo la possibilità di diagnosticare questo tumore in una fase precoce e se questo tumore viene staccato con una fase con una fase precoce con un intervento chirurgico ci sarebbe la guarigione senza nessun problema i problemi invece sorgono quando il tumore diventa un tumore diciamo avanzato per cui a quel punto la chirurgia non è più sufficiente e quindi dobbiamo ricorrere ad altre ad altre ad altre ad altre modalità senta perché c'è questa grande resistenza ad entrare nei programmi di prevenzione che pure ci sono ecco il problema grosso perché ovviamente noi in italia abbiamo la c'è in italia in europa nel mondo la prevenzione viene fatta con la ricerca del sangue occulto nelle feci il problema è che ed è un esame banale perché si tratta praticamente di prendere un campione di feci mette una provetta e poi portarlo insomma o all'asola farmacia cioè dipende dalle varie asie di appartenenza però in realtà molte persone cestinano la lettera d'invito a questi programmi perché non non capiscono l'importante tanto sto bene cosa mi interessa eccetera quindi non c'è stata per quanto riguarda il tumore del colon sufficiente informazione riguarda questa a questa patologia cosa che invece è stata fatta per altri tumori tipo il tumore della mammella ormai ha un'adesione altissima di risposte allo screening invece per il colon che pure è il secondo come dicevo il secondo tumore non di frequenza con una mortalità molto superiore a quella della mammella in realtà questo non è stato ancora compreso quindi abbiamo e quindi è proprio qui che noi dobbiamo battersi per questo tumore che potremo come dico addirittura eliminare e rappresenta la seconda causa di mortalità per tumore superiore a quello della mammella quindi dobbiamo farlo capire bisogna farlo capire il purtroppo aderiscono allo screening un numero diciamo molto molto basso di di persone a livello italiano siamo intorno globalmente sono siamo sul mi pare il 38 per cento però abbiamo delle punte 47 per cento al nord mi pare 30 per cento nelle al centro e arriviamo al 20 10 per cento al sud in alcune zone del sud noi arriviamo siamo sotto al 10 per cento quindi sotto al 10 per cento vuol dire che le persone non sono raggiunte dal dal dallo screening o per mancata organizzazione o perché non rispondono proprio perché non capiscono non sanno non capiscono l'importanza di questa cosa per questo poi porta tutte queste queste persone poi ad arrivare quando in ospedale con quel famoso tumore avanzato che io apro e non posso fare niente o posso fare molto poco e quindi è molto importante fare capire questo prima senta con la ricerca del sangue occulto nelle feci quanti tumori si possono scoprire ecco intanto bisogna c'è una precisazione da fare che ecco la ricerca del sangue occulto della feci è praticamente è uno screening quindi non è che quando uno ha il sangue occulto delle feci positivo vuol dire che al tumore sangue occulto delle feci può voler dire che il paziente ha molte patologie minori delle morroide le ragadi oppure insomma nelle donne una contaminazione di da parte di sangue mestruale ci possono essere anche molte cause diverse quindi cioè quel sangue occulto nelle feci globalmente ad esempio mi sembra che è un 4 per cento 4,7 per cento nella ad esempio nei dati dell'emilia romagna quindi già sono pochi cioè il sangue occulto i positivi sono una percentuale diciamo abbastanza piccola sulla sulla sul numero totale di pazienti sottoposti a screening se poi andiamo a vedere nello specifico quali sono i dati che otteniamo vediamo che praticamente su sul numero totale dei pazienti noi riusciamo a identificare un cancro del colon su mille pazienti ma identifichiamo ben 130 pazienti su mille pazienti con un polipo del colon quindi sostanzialmente 130 pazienti vuol dire che sono quei 130 pazienti che hanno un polipo che poi diventerà cancro e noi riusciamo comunque a trattarlo prima che diventi cancro quindi è un è un è un è un grosso impatto quello che noi possiamo ottenere con un esame molto banale certo l'ideale sarebbe poter fare a tutti diciamo la colonoscopia o comunque una sigmoidoscopia come ad esempio viene fatto in piemonte ecco però ovviamente non abbiamo in questo momento la disponibilità di fare degli screening diciamo più più approfondite quindi diciamo il sangue occulto è comunque una prima scrematura veramente molto molto efficace senta in caso di malattia accertata quali cure oggi sono disponibili allora ovviamente la prima cura è la la prima e unica cura veramente efficace è l'intervento chirurgico quindi l'intervento chirurgico è il la condizio sine qua non per la guarigione che deve essere un intervento il più possibile radicale con esportazione di tutti i linfonodi eccetera e poi ovviamente se però c'è già una patologia in fase avanzata quindi tumore che arriva già la sierosa oltrepassa la sierosa ha preso il linfonodo ovviamente bisogna ricorrere alle altre terapie la chemioterapia la radioterapia la radioterapia viene fatta nei tumori del retto viene fatta anche preoperatoriamente e poi ci sono tutte al momento abbiamo tutta una serie di farmaci oncologici veramente molto 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 più efficace del passato noi abbiamo gli anticorpi monoclonali abbiamo l'immunoterapia abbiamo dei farmaci veramente molto efficaci però purtroppo molto costosi e quindi il cancro del colon in fase diciamo avanzata è un tumore che costa tanto e quindi anche per questo noi dovremmo a mio avviso spingere molto sulla prevenzione proprio anche per risparmiare diciamo nella sanità perché noi spenderemo molto meno se noi potessimo diciamo non soltanto per la pro ovviamente prima di tutto per la prognus del paziente ma anche per i bilanci economici dello stato perché se noi curiamo cioè trattiamo il polipo prima ovviamente non arriviamo al cancro e a tutti questi costi legati a un tumore in fase avanzata Che cosa ognuno di noi può fare oltre ovviamente sottoporsi allo screening per prevenire questo tipo di cancro? Ecco questa è una domanda e questa è una bella domanda perché in realtà noi possiamo fare tanto perché possiamo fare tanto perché intanto ovviamente faccio una piccola permessa ci sono ovviamente delle forme diciamo che sono forme familiari o genetiche quindi è molto importante che se uno se c'è una familiarità oppure una forma genetica tipo l'EFAP o la sindrome di Lynch cioè queste devono essere identificate per sottoporre questi pazienti a dei controlli più diciamo ravvicinati e diversi da quelli della popolazione dal resto della popolazione. Ecco però parlando diciamo di tumori sporadici che rappresentano il 70% diciamo dei casi noi possiamo incidere cambiando gli stili di vita stile di vita che sono praticamente le abitudini alimentari che ad esempio dovremmo evitare per questo tipo di tumore bisogna evitare le carni rosse bisogna evitare gli insaccati, gli zuccheri, bisogna evitare l'obesità, bisogna evitare l'alcol, il fumo ecco ci sono tutta una serie di stili di vita anti cancro di cui ognuno dovrebbe farsi carico e ovviamente questo dipende un po' dalle istituzioni che devono fare, devono cercare di aumentare l'informazione riguardo i corretti stili di vita però ci vuole anche una parte personale in cui uno ci deve mettere del suo per adottare questi stili vita, in particolare questo credo che sia molto importante anche nei confronti dei giovani adesso c'è un grosso consumo diciamo ad esempio di alcol ad esempio nei giovani che ovviamente dovrebbe essere forse bisognerebbe nei confronti dei giovani ci dovrebbe essere forse maggiore informazione quindi lo spritz è una felicità bersi lo spritz l'aperitivo come adesso molti fanno però questo ovviamente bisogna fare molta attenzione anche perché ad esempio il cancro del colon questo è un punto veramente molto importante su cui adesso c'è una grossa attenzione sta aumentando molto nei giovani sotto dei 50 anni cosa che noi fino adesso non avevamo osservato quindi a cosa si è legato questo problema ancora non è chiaro probabilmente qualche cosa a cui i giovani sono stati esposti e a cui le generazioni nostre non sono invece non hanno non sono stati esposti l'ipotesi che si fa è quella ad esempio anche delle microplastiche ma qui si apre tutto un discorso che è molto lungo che è ancora su cui c'è ancora molto da studiare magari faremo un'altra puntata in materia intanto la ringrazio molto per queste informazioni che sono preziosissime e la rimando ad un prossimo appuntamento grazie grazie, grazie, arrivederci